ragazzuole buongiorno buongiorno ragazzuole buongiorno ragazzuole perché ricordiamoci anche dei nostri moschietti purtroppo non sono riusciti a darvi il buongiorno prima adesso sono appena arrivata a Rizzone sono andata a fare una cosa super 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 bella quindi adesso vi porto come vi faccio vedere e adesso che succede nipotini ma i sergetti sono con Rosy Chin a bacchette pronte e partecipano Sergio partecipa alla trasmissione c'è anche Amedeo Venza vi godete due secondi con questo show straordinario che fa Rosy che è veramente una ballerina fantastica oltre che un'ottima chef di sushi perché fanno del sushi incredibile lei è l'animatrice di questo locale c'è poco da fare adesso vi lascio con Sergio con lei e con Amedeo Venza ciao ecco Rosy di nuovo chiudiamo con Angelica leg day scrive e Vittorio ciao ciao Grazie.